Allora, avviamo la quarta commissione, faccio l'appello, Francesco Policiari presente, Tuoputi Giuseppe assente, di cui è Massimiliano assente, La Notte Francesco assente, Bruno Maurizio assente, Crevente Sergio assente, Laricchia Antonella assente, Menea Ruggero assente, Romito Fabio Saverio assente, Scalera Antonio Paolo assente, Tutolo Antonio assente, Ventola Francesco, sostituito da il collega Piccaro. Ringrazio per la presenza il Presidente del Parco dell'Alta Murgia, Francesco Tarantini, sempre il Dottor Matarrese del Dipartimento, il Dottor Leccese dell'Associazione dei Tartufai Nazionale, giusto? No, l'Associazione Nazionale, no, ok, benissimo, è il Professor Giovanni Bruno. Bene, è un aggiornamento di audizione richiesta dal collega Piccaro riguardante appunto il sorteggio per gli accessi dei Tartufai nel Parco dell'Alta Murgia. Abbiamo già nella prima fase di commissione audito il Dottor Leccese e il Dottor Matarrese, mancava purtroppo per un impegno in concomitanza il Presidente del Parco dell'Alta Murgia che ha dato subito la disponibilità per essere qui nella commissione successiva. Quindi lascio la parola al collega Piccaro se vuole aggiungere qualcosa in modo tale sulla richiesta e poi lascio la parola al Presidente del Parco. Prego. Grazie Presidente, ma giusto per ringraziare il Presidente di commissione, il Presidente del Parco per la disponibilità a proseguire celermente i lavori intrapresi rispetto a un'esigenza che è stata rappresentata dall'Associazione Tartufa Italiani Puglia e per comprendere se ci sono le possibilità per in questa prima fase riaggiornare lo studio, rivederlo e quindi dare l'opportunità di andare incontro alle esigenze contemperando gli interessi attesa alle dimensioni del Parco e successivamente avviare un percorso che qui già anticipo, che possa modificare la legge per coinvolgere più categorie e dare l'opportunità a tutti di avere il diritto di parola nel rispetto, ripeto, sempre dell'ecosistema del contemperare gli interessi di tutti. Mi sono anche permesso di anticipare una nota al Presidente del Parco dell'Alta Mulgia che ringrazio per la disponibilità che ha sempre dimostrato rispetto a questo tema per cercare di comprendere come andare incontro alle esigenze con le quali chiedevo di avere una certa sensibilità rispetto al tema e di conseguentemente avviare quelle azioni idonee e celeri a ampliare il numero e poi fare un ragionamento più di prospettiva per la prossima stagione. Grazie. Grazie, intanto è arrivato anche il collega Mennea che saluto. Presidente, prego. Buongiorno a tutti, grazie Presidente dell'invito, un saluto al Consigliere Piccolo, al Consigliere Mennea e ai presenti. Scusatemi, l'altra volta era in visita da me il Vice Capo della Polizia della Giordania e quindi non potevo lasciare, però forse essere udito in commissione portabile perché oggi ho il generale della finanza, perché abbiamo gli allievi delle finanziere e quindi anche lì devo andare come ospiti permanenti. Sulla questione tartufi, vorrei partire facendo un breve escursus perché io ho ereditato questo numero di autorizzazioni di 70, ma non perché voglia fare lo scaricabarile su altri. Parto dalla razio dell'articolo 4 della legge 8 del 2015 che è quella appunto di condividere il rilascio del numero delle autorizzazioni perché forse nei parchi regionali e nazionali ci sono degli ecosistemi da tutelare. Quando è stata istituita la legge il Parco dell'Altamurgia, all'epoca non era Presidente, ha stabilito senza alcuno studio un numero di 70 autorizzazioni da rilasciare. Un numero che era comunque superiore a quello di altri parchi, a partire dal Gargano che è un parco nazionale che ne ha 50 ed ha un'estensione doppia di quella del Parco dell'Altamurgia perché a noi l'estensione è di 68 mila ettari, al Parco del Gargano parliamo di 128 mila ettari e poi dei parchi regionali che hanno previsto 30 autorizzazioni. Ma al di là di questo il problema era appunto capire, perché siamo un parco nazionale e questo ce lo impone il decreto istitutivo dell'ente parco, qual è l'impatto della raccolta dei tartufi sugli ecosistemi delle aree coinvolte dalla raccolta ed ecco perché di comune intesa con le associazioni dei tartufai che sono state da me personalmente da quando mi sono insediato, poi purtroppo mi sono insediato qualche mese prima del lockdown e quindi diciamo abbiamo vissuto tutto il periodo del lockdown, hanno sono state ricevute e di accordo con il Ministero dell'Ambiente che è il nostro organismo vigilante per andare a modificare il numero delle autorizzazioni si chiedeva uno studio che andasse appunto a valutare l'incidenza sugli ecosistemi delle aree previste da raccolto, questo perché la raccolta avviene nei boschi del parco, quindi nella zona B del parco dove gli ecosistemi devono essere tutelati, ma non perché lo stabilisco io ma perché lo stabilisce il decreto istitutivo e devono essere tutelati soprattutto in determinati periodi dell'anno, pensate che il 15 marzo scatta il fermo selvi culturali in alcuni boschi, noi abbiamo iniziato i lavori bosco del Castel del Monte visto il tentativo di appiccare un incendio per 6 volte lo scorso anno e ci fermiamo perché inizia dal 15 marzo al 20 agosto il periodo della riproduzione biologica e a questo poi si aggiunge il periodo dell'IB, quindi diciamo sono fermi selvi culturali che non guardano in faccia nessuno, non guardano in faccia neanche il parco nazionale dell'Altamurge che rappresenta il Ministro dell'Ambiente. Comunque al di là di questo, quindi questo significa che non è che noi abbiamo 11 mila ettari di superficie boscata e nei boschi possono andare 11 mila persone, però studiamo quelli che possono essere gli impatti sull'incidenza e c'è la nostra apertura per rispondere al Consigliere Piccaro ma anche all'Associazione dei Tattufai ad aumentare il numero delle autorizzazioni. Innanzitutto il numero delle, perché ho letto diciamo nella rassegna stampa le vari numeri un po' dati all'otto, innanzitutto le autorizzazioni richieste ufficialmente al parco dell'Altamurgia dal 2015 ad oggi non hanno mai superato il numero di 142, quindi quando si legge sui giornali siamo 300-400 mila, ufficialmente agli atti del parco non risultano più di 140. Si erano trovate delle quadre non con me ma col Ministero dell'Ambiente per fare andare 140 persone riducendo l'incidenza con due cani, non si era trovato un accordo e quindi siamo ricorsi allo studio così come vuole anche il Ministero dell'Ambiente. Ecco perché il parco dell'Altamurgia ha dato mandato all'Università di Bari, in particolare al DCCPA, il Dipartimento Scienze del Suolo, Piante e degli Alimenti per fare uno studio che ci rappresentasse quali sono le specie di tartufo presenti nel parco, lastimare la loro produzione e soprattutto valutare l'incidenza sulle aree di raccolta. Questo studio è stato, diciamo così, influenzato non dalla simpatia e antipatia sicuramente nei confronti di tartufai ma da cambiamenti climatici che ci sono stati, c'è stata una stagione siccitosa, poi adesso ci racconterà il Professor Bruno, dallo stato di salute dei boschi perché i nostri boschi sono boschi che necessitano, non sono gestiti da noi, non sono del parco, di interventi selviculturali messi in sicurezza e poi delle ripercussioni si sono avute anche grazie per l'azione dei cinghiali, perché se la biodiversità potesse parlare starebbe incazzata quanto gli agricoltori e quanto i cittadini che impattano con le loro macchine sui cinghiali, in quanto i cinghiali nei boschi del parco hanno completamente distrutto la biodiversità, facendo danni all'erpetofauna, alle specie floristiche, ai muretti a secco che sono la casa dell'erpetofauna e agli uccelli che ne edificano a terra, quindi i cinghiali hanno fatto dei danni, hanno creato degli squilibri ecologici nei boschi. Abbiamo presentato questo studio, questo studio ha riportato, ha confermato le 70 autorizzazioni, però come ho detto alle associazioni dei tartufai nella riunione che c'è stata di presentazione dello studio, noi siamo innanzitutto disponibili a un dialogo costruttivo, costante nei confronti delle associazioni dei tartufai, c'è la volontà dell'ente di considerare quello studio, l'ho ripetuto più volte, come punto di partenza e quindi ampliare lo studio già preso accordi con la nuova direttrice del CCPA e la professoressa di Angelis che è stata anche contattata da qualche associazione dei tartufai, mi associo alle associazioni dei tartufai perché e agli atti anche delle precedenti commissioni, il Parco ha sempre chiesto all'assessore di istituire questo benedetto comitato tecnico ai sensi dell'articolo 22,2 della legge 8 del 2015 e quindi la disponibilità a ripartire con uno studio, uno studio che deve essere condiviso e chiediamo questa volta una serie di collaborazioni dei tartufai per fare un passo in avanti e cercare di raggiungere il numero più elevato di autorizzazioni, anche perché anche lo stesso rilascio e sorteggio delle autorizzazioni è un lavoro che sta mettendo a rischio gli altri lavori del Parco perché quest'anno per dedicarci anche a risposte, osservazioni ed altro, la responsabile, l'agronoga, la dottoressa Mattia che si è dedicata solo a questo, purtroppo noi abbiamo una carenza cronica di personale, ha trascurato anche altre cose molto importanti a partire dall'avvio dei lavori della messa in sicurezza del Castel del Monte insieme anche ad altri boschi quale quello di Acquatetta. Quindi la disponibilità del Parco c'è, noi stiamo già procedendo con il Dipartimento a riprendere lo studio e considerando quello comunque fatto un importante punto di partenza. Ora a proposito di punti di partenza e di studio lascio la parola al Professor Luigi Bruno che ha seguito per conto del Parco lo studio e che è un addetto ai lavori e che meglio di me potrà sintetizzare quelli che sono i risultati dello studio e perché si sono arrivati a quei risultati. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Diciamo che quello che ha riassunto il Presidente Tarantini, lo studio che è stato commissionato all'Università degli Studi di Bari che vedeva a me come responsabile scientifico, si proponeva di avere delle indicazioni su quelle che sono le produttività dei boschi che insistono nel Parco nazionale dell'Altamurgia. Per fare questo è stata chiesta la collaborazione delle persone autorizzate da quando è in vigore la legge sino al 2020 che abbiamo iniziato alla raccolta dei tartufi nel Parco nazionale, ma di questi nessuno ha risposto. Poi c'è stato un incontro con le associazioni tartufai pugliesi, le quali hanno manifestato la loro intenzione a collaborare, soprattutto nella stesura di un questionario dal quale poi si dovevano ricavare i dati da incrociare con dati meteo e verificare quelle che sono le produttività, gli andamenti delle produttività di questi boschi del Parco nazionale. Vedendo però che risposte da parte dei cercatori non ce ne sono state, sono andato a vedere qual è la situazione di quello che aveva tra le mani e quindi i boschi. Sostanzialmente degli 11 mila ettari di boschi, sulla base delle informazioni in mio possesso e soprattutto uno studio fatto sia anni prima in collaborazione con la regione Puglia e soprattutto gli studi fatti nel 2005 e nel 2007 dal professor Sisto e dal professor Rana che si sono occupati di tartufi in Puglia prima di me, ho individuato alcune delle aree in cui di solito si fa la raccolta di tartufi e quelle che sono le due più importanti specie di tartufi presenti nel Parco e in queste aree sono andato a vedere la situazione fitosanitaria delle piante. La situazione dei boschi pugliesi, Parco nazionale incluso, credo che sia ben nota a tutti, non godono di ottima salute sia le pinete che anche i boschi misti e soprattutto anche le quercete hanno problemi di varia natura, da un'eccessiva presenza di piante, quindi un'elevata densità di piante a piante che stanno morendo, quelle già morte, problemi di dissecamento degli aghi sui pini, il problema dei cinghiali che oltre a mangiarsi e ad essere ottimi intenditori di tartufi poi usano le piante per le loro attività per cui molte pinete hanno le piante alla base fortemente rovinate da questi cinghiali. L'altra cosa che ho cercato di tenere in considerazione nel tirare poi le conclusioni di quello che ho visto e fatto in questa relazione sono state quelle che sono le variazioni di temperature che abbiamo avuto soprattutto nei periodi estivi e soprattutto negli anni 2021 e 2022. Perché questo? Non è una cosa che ho inventato io, ma studi che per esempio in Svizzera e in Germania meridionale sono stati condotti già dal 2011 e che hanno interessato il tuber uncinato, quindi una specie di tartufo abbastanza resistente nelle zone secche, visto che è presente sia in Italia ma anche in Spagna. Hanno notato questi qua che con l'aumento di media della temperatura estiva di un grado, la produzione di tartufi a seconda delle zone è diminuita tra il 22 e il 70%. Se mi fa finire di parlare poi dopo può fare tutti gli interventi che vuole. Questo come trend generale e credo che l'aumento della temperatura non abbia interessato soltanto la Germania e la Svizzera ma ha interessato anche l'Italia. Cose che ho letto sulla stampa qualche giorno fa parlavano di oltre 5 gradi quest'anno e 7 gradi in più nell'estate l'anno scorso, con una ridotta quantità delle piogge che abbiamo ricevuto soprattutto in Puglia. E di queste ore è il problema nel Piemonte e anche da noi abbiamo avuto delle aree che sono state colpite da temporali questo fine settimana scorso, ma ci sono delle aree che ancora acqua, non ne vedono da parecchie tempi. Un altro studio invece riguarda l'estivum che è un tartufo invece nostrano, credo che esista anche in Puglia e qui è stato visto che aumenti di 3 gradi di temperatura sono sufficienti a fermare del tutto la produzione degli ascomi di questi funghi. Lo stesso è stato fatto per melanosporum, un'altra specie di tartufo e in questo caso hanno incrociato i dati di raccolta e i dati climatici di ben 49 anni di lavoro e questi sono studi pubblicati nel 2019. Questo perché? Perché è vero che il tartufo e la pianta hanno un'interazione simbiontica, si aiutano a vicenda, ma in questo aiuto la pianta deve stare bene e il fungo deve stare bene per poter esprimersi al meglio sia una che l'altro. La pianta ammalata riduce sicuramente la produzione di zuccheri che poi fornirà al tartufo, la pianta ammalata ha delle difficoltà a portare avanti e soprattutto la pianta in stress in generale includendo anche le variazioni climatiche degli ultimi tempi. Inoltre la cosa che forse non si tiene molto conto è che per migliorare le produzioni di ascomi, di tartufi in una tartufaia i tartufi devono avere la possibilità di formarsi, come succede anche per noi, avendo la possibilità di unione di gameti e di spore diverse in questo caso. Spore che con la raccolta e con la riduzione delle produzioni di questi tartufi sicuramente vengono a mancare nel terreno, soprattutto perché la diffusione di questi tartufi nel terreno è affidata a animali terricoli che sicuramente non vanno d'accordo col fatto che noi andiamo a raccoglierli. Tra l'altro un ultimo studio che è stato fatto sempre in considerazione degli stati caldi e secchi, hanno considerato che la riduzione della crescita degli alberi e quindi della ridotta fotosintesi, ha portato ad una riduzione di ben 22 g di tartufi per pianta, che possono sembrare pochi, ma visto che non si raccolgono quintali da sotto le piante, sono dei numeri da tenere abbastanza in considerazione. Sulla base di queste considerazioni ho ritenuto di non alterare più di tanto l'ecosistema bosco nel Parco Nazionale dell'Antamurgia, mantenendo costanti quelle 70 persone sinora autorizzate. Ovviamente c'è la disponibilità da parte mia, ma soprattutto del Dipartimento, di andare avanti in questo studio e sicuramente quello che è stato fatto fotografa in un certo senso la situazione alla fine agosto 2022. Adesso non lo so se le condizioni stanno cambiando, non mi sembra che stiano cambiando molto, però lo studio si può continuare, soprattutto se ci sarà la collaborazione da parte dei diretti interessati, quindi i raccoglitori. Tra l'altro, una parentesi, un inciso, permettetemelo, completare questo studio secondo le ipotesi che hanno stato fatte in partenza, sarebbe stato il secondo studio in Italia, perché uno studio del simile è stato fatto solo in Basilicata e adesso leggevo nel news che girano su Internet, il Piemonte sta facendo una cosa simile per quanto riguarda il tartufo nero pregiato. Per il resto, in questa arte del stimare le produzioni di tartufo, siamo stati in due per il momento a cimentarci, uno è riuscito ad ottenere dei risultati, io mi sono dovuto fermare ad un certo punto perché non avevo dati certi su cui ragionare. Grazie di tutto. Grazie. Questo è il quadro complessivo dello studio che avete realizzato e che anche dalla scorsa commissione emergeva la richiesta di poter revisionare quello studio e credo che ci sia una disponibilità in tal senso. Per quanto riguarda invece il comitato tecnico scientifico già il dottor Matarrese aveva già risposto la scorsa volta, nel senso che è nell'arco di un mese e mezzo massimo. Se vuole, ecco prego. Sì, grazie Presidente. Abbiamo temporeggiato fino a oggi perché la settimana scorsa abbiamo avuto un'altra istanza per un'associazione che si è iscritta, quindi ci sembrava giusto includere anche, completare l'iter di istruttore anche per questa e quindi fra oggi e domani pensiamo di procedere alla richiesta della nomina dei componenti agli enti e i componenti previsti e dall'articolo 22 e della commissione per gli esami che è in aggiornamento per procedere contestualmente su entrambe le commissioni. Perfetto, questo è già un altro importante aggiornamento e volevo intervenire il collega tutto, lo prego. Grazie Presidente, non volevo qualche delucidazione perché confesso la mia ignoranza non solo su questo tema, però parliamo di questo adesso e volevo capire, l'ente parco è colui che autorizza gli accessi per la cerca del tartufo ed è il Ministero che gli dà questa, come dire, la promanazione di questo no? E chi è? La regione? Noi? Che stabilisce la legge regionale che ha deciso questa roba, mi pare chiaro che possiamo incidere insomma. Ah ecco, perfetto. Volevo rispondere a questo suo capito, se posso rispondere. Allora, la legge, dicevo forse lei è venuto dopo, la legge regionale, l'articolo 4, allora noi siamo, il parco dell'Altamurgia rappresenta sul territorio, perché questo sfugge, il Ministero dell'Ambiente, che è un ente sovraordinato rispetto alla regione, quindi in un parco nazionale non è che la regione può decidere, diciamo, senza intesa con il parco di poter decidere il numero delle autorizzazioni, infatti l'articolo 4 ha come base quella di, proprio perché vanno tutelati gli ecosistemi, di intesa con la regione. Ho capito. E quindi, poi, diciamo, qua apro una parentesi a questo punto perché la voglio aprire, il parco dell'Altamurgia, sempre a proposito della collaborazione con i tartufai perché non ha pregiudizi, non ha sollevato all'epoca, quindi il parco e il Ministero, perché ogni cosa che io faccio io la mando a Roma, che è il mio organismo vigilante, se mi dicono sì o se mi dicono no, io, in base a quello che mi rispondono, se non c'è nulla da osservare, questa è la formula giuridica, io vado avanti. La regione Puglia, all'inizio, mi sa, della legislatura, per esempio, ha modificato la legge 8, togliendo l'iniziativa, togliendo la previsione di priorità per i residenti. La legge quadro, non il Presidente del parco, la legge quadro, la 394 del 91, che è la legge quadro sull'istituzione delle aree protette, prevede che i residenti di un parco, su cui è ovvio non possono gravare solo i vincoli di un parco, hanno nell'iniziativa economica la priorità per quanto riguarda tutta una serie di iniziative. Quindi, se si istituisce l'ATC parco di caccia, hanno la priorità i cacciatori di residenti nel parco, in altre cose, la regione Puglia ha tolto la previsione della priorità ai residenti. Ovviamente noi non ci siamo opposti, perché se la raccolta dei tartufi non è per hobby, ma è un'iniziativa economica, ovviamente in un parco, perché lo diciamo noi, lo dice la 394, l'articolo 7, 8 e 9, ha priorità i residenti. Ecco perché è importante, Presidente, creare questo comitato, perché tutte queste cose vengono discusse, perché quando si va per ordine sparso, si creano poi cortocircuiti e conflitti che possono essere risolti anche in altre sedi. Quindi perché tutti questi chiarimenti, come dice lei consiglieri, non tutti siamo addetti ai lavori, neanche io, io ho studiato e poi ci siamo avvalsi dell'Università di Bari per andare avanti, perché noi con uno studio dobbiamo capire qual è l'incidenza sugli ecosistemi. Il fatto che noi abbiamo 11 mila ettari di superficie boscata non significa che liberi tutti, ma bisogna comunque capire quella che è l'incidenza, come facciamo con tutti, anche con i militari. Grazie di questa sua delucidazione, per me è stata preziosa. Un'ultima delucidazione. Quelli che sono autorizzati, sono sempre gli stessi? C'è un criterio di rotazione, di show? D'intesa con le associazioni si è stabilito, perché noi facciamo le riunioni con le associazioni che convochiamo regolarmente, d'intesa abbiamo scelto il criterio del sorteggio. E quindi c'è il criterio del sorteggio e le persone vengono sorteggiate con la possibilità dal settantunesimo in poi di poter subentrare nel momento in cui qualcuno rinuncia all'autorizzazione. Abbiamo stabilito sempre ed intesa con le associazioni quest'anno, prima del sorteggio, che non è possibile che chi riceve un'autorizzazione e non vuole andare, poi la può cedere invece a un familiare, al figlio, al padre, al coso. L'abbiamo deciso insieme e l'abbiamo, diciamo, questa regola applicata. Però anche qui, ecco, se si mette tutto a sistema, diciamo, è meglio. Grazie. Prego. Sì, grazie. Sono felice che anche tramite queste sedute di commissione si avvii il percorso dell'istituzione del comitato tecnico con un allargamento. Successivamente interveremo, mi permetterò di, diciamo, suggerire alcuni altri passaggi anche sotto l'aspetto normativo. Un'ultima domanda, e poi io mi riterrei soddisfatto di questa audizione, è comprendere i tempi del riaggiornamento, diciamo, di questo studio, atteso che, insomma, stiamo andando in un periodo nel quale poi, insomma, sarà inutile. Quindi io spero che questo possa avvenire celermente, orientativamente, non intendo dire il termine esatto, però se questo si può fare in termini celeri, insomma, mi farebbe piacere, sarebbe opportune, avrebbe senso. Quindi chiedo su questo la massima disponibilità e celerità. Grazie. Presidente, ha chiesto prima il Dottor Leccise e poi il Dottor Matarri, se prego. Presidente, sì, no, in effetti, se lo studio deve continuare, realmente, come diciamo anche la volta scorsa, sarebbe il caso di farlo partire nell'immediatezza. Io adesso non so come ci si può organizzare, però voglio dire, perché adesso c'è la presenza del tartufo dove la produzione è importante in Puglia. Noi diciamo che la Puglia soddisfa esigenze nazionali per la raccolta del bianchetto. Quindi, se riuscissimo, Presidente, a far partire immediatamente lo studio, perché poi andiamo incontro a un periodo di, il 30 di aprile, questo tartufo non si può più raccogliere. Quindi adesso siamo nella massima produzione e io chiederei gentilmente magari di collaborare, capire come avviare con i tartufai. Purtroppo non sono tutti residenti in Puglia, perché molti sono di fuori regione. Quindi di allargare eventualmente, se è possibile, se vogliamo procedere a portare avanti lo studio, a concluderlo, noi diamo la totale disponibilità come associazione regionale. Grazie. Grazie. Dottor Matarise, prego. Sì, per rispondere al Consigliere Bicaro, rispetto alla prospettiva di un aggiornamento normativo, chiaramente la sezione è a completa disposizione, a tal fine mi permetto di evidenziare che l'articolo 4 e l'articolo 22 non dialogano in maniera diretta, nel senso che l'articolo 4 dice sentiti le aree protette, l'articolo 22 dice che il Comitato si occupa del monitoraggio e altre competenze rispetto alla raccolta dei tartufi. Pertanto probabilmente è necessario come dire, metterli più in comunicazione gli articoli, atteso che oggi probabilmente il percorso amministrativo sarebbe quello che il Comitato si riunisce, parla, decide qualcosa, ma poi la Regione, sempre l'articolo 4 sì, quindi sente il palco. Però volevo aggiungere una cosa. Sì, scusa. Sì, no, 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 voglio anticiparti Presidente, sicuramente quello che si sta facendo è nella direzione di rendere armonioso il dispositivo e sicuramente ci saranno anche motivi di interlocuzione per avere il vostro validissimo contributo. Due cose, la risposta al Consigliere Piccolo e al Dottor Leccesi. Allora, per quanto riguarda lo studio, a prescindere dall'audizione era certo, infatti, che noi procediamo con lo studio. Io adesso devo incontrare fisicamente la nuova, perché è cambiata la direttrice e quindi si è, diciamo, subentrata la De Angelis, che ho già incontrato, mi ha dato, e hai incontrato anche tu, la piena disponibilità. Quindi nel momento in cui la incontro, con lei stabiliamo ancora uno programma, voi sarete riconvocati come sempre e con voi stabiliremo tempi e modalità di procedimento allo studio. Invece, per quanto riguarda l'articolo 22, Presidente, io volevo chiedere, su questo, come su altri argomenti, diciamo, ma sempre in spirito costruttivo, una maggiore anche collaborazione da parte della Commissione della Regione. Cioè, sull'articolo 22 significa che questo comitato, se poi la Regione si prende anche in carico uno studio a noi, se fa lo studio anche la Regione, lo studio della Regione ci va bene. Ovviamente l'importante è che nello studio della Regione emerga quelli che sono, sempre l'oggetto, eventuali impatti sugli ecosistemi delle aree in cui il tartufo viene raccolto. E così si rende anche un po' più omogenea, perché se no, sia sulla questione dei tartufi, ma anche e soprattutto sulla questione che veramente, a me personalmente, mi sta togliendo la salute, che è quella dei cinghiali, perché noi siamo l'interfaccia diretta con gli agricoltori e io personalmente vado sui terreni degli agricoltori e vedo che gente che veramente ha seminato di tutto di più si trova i terreni completamente stravolti. È un continuo ogni giorno. Ci sia poi, perché noi come Parco stiamo facendo la nostra parte. Purtroppo, come sapete, le catture sono state sospese perché c'è stata l'ordinanza del Ministero della Salute per la peste su Ina e quindi la divieto. Però stiamo andando avanti con il progetto che lei conosce, ex Ficipam, e quindi adesso, proprio in questi giorni, anche qui rallentato perché ci siamo occupati di rilascio delle autorizzazioni, Ficipam, che significa che noi siamo uno dei pochi parchi, se non l'unico in Italia, che chiuderà la filiera del cinghiale nel parco, con un macello mobile e con i centri di lavorazione della selvaggina. Perché purtroppo se l'unico modo di contenere i cinghiali è essere controllo, è l'abbattimento selettivo. Altro non c'è. Poi, se qualcuno vuole tutelarseli e se li vuole adottare e portare a casa, può anche venirlo a fare, perché noi quotidianamente siamo accerchiati da agricoltori, da gente che ogni sera impatta con la macchina sui cinghiali, soprattutto su determinate strade e poi l'impatto del cinghiale, anche in termini economici, sul parco sta pesando oltre 100 mila Euro all'anno, perché noi, io ho modificato il regolamento andando incontro alle esigenze degli agricoltori e delle associazioni agricole, abbiamo tolto la riduzione del 20%, quindi paghiamo il danno che i cinghiali fanno al 100% e questo comincia a diventare anche un impatto pesante. E quindi anche qui, se si mette su una cabina di regia, un più più regionale, perché il problema è che se questo problema del cinghiale viene affrontato solo dal parco, alla fine, e non da altri contemporaneamente, si creeranno le cosiddette a riserbatoio attraverso le lame in altri parchi e quindi lo affronto io, ma non lo affronto un altro, siamo appunto da capo sostanzialmente. Quindi facendo anche tesoro di quello che stiamo vivendo per il cinghiale, la stessa cosa potrebbe essere per il tartufo. Noi ci impegniamo a fare lo studio, però che questo comitato tecnico-scientifico abbracci poi un po' tutto e si affrontino poi in questo comitato un po' tutte le problematiche, perché poi penso che, se no, sempre il parco dell'Altamurgia, ma parliamo di tartufi, ma parliamo di cinghiale, i riflettori si assendono sempre sul parco, non perché noi non siamo disponibili, però. Grazie. Grazie. Se non ci sono ulteriori interventi possiamo ringraziare per la presenza, colgo anche l'occasione per ringraziare il parco dell'Altamurgia per tutto il lavoro che sta facendo e di riqualificazione, far rivivere tutto il parco dell'Altamurgia con tante iniziative, insomma, complimenti. Presidente, è una bella attività che dà lustro alla regione Puglia. Grazie, buona giornata. Grazie.